Marco De Nicolo, campione italiano nella specialità di carabina 10 metri uomini. Marco, hai vinto anche quest'anno? Sì, sono contento. Io mi preparo sempre per tutte e tre le discipline. Ieri la gara a terra è andata un po' male, alla fine sono riuscito a rimediare un bronzo, oggi è andata meglio e speriamo, incrociamo le dita anche per domani. Facciamo un bilancio della stagione che si sta concludendo. La stagione è molto positiva, diciamo che è stata impreziosita sicuramente dal secondo posto ai campionati europei che quindi ha dato all'intera stagione una certa impronta. È una stagione di passaggio, ormai possiamo dire era, in attesa dell'anno prossimo dove bisognerà preparare al meglio l'appuntamento olimpico. Le premesse sono buone, io mi sento abbastanza bene, le mie sensazioni sono anche corroborate da buoni risultati, quindi speriamo. La passione è tanta, la voglia c'è, quindi speriamo bene. Vuoi dedicare questa vittoria di oggi a qualcuno? Vabbè, a me viene sempre in mente, ah no, oggi sì a mia mamma che è il suo compleanno, oggi sì, oggi Nicoletta, mia moglie, salta, oggi è il turno della mamma perché oggi è il suo compleanno, quindi tanti auguri. Grazie. 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 Grazie.